Questa mattina per lei, Presidente, visita istituzionale in ASL 5, un incontro molto proficuo con tutti i vertici dell'azienda sanitaria. Sì, ho voluto incontrare insieme alla direzione, con il dottor Cavagnaro e i vertici ASL, i tre direttori di distretto sociosanitario. Si è parlato del territorio. Il territorio ora è fondamentale, anche perché stiamo vivendo una fase di transizione, dove c'è ancora comunque i G-SAT, cioè i gruppi sul territorio per andare a fare i tamponi, gli hub vaccinali, quindi il personale è impegnato lì, però si è parlato di ripartenza. Io lo dico da tempo, si deve pensare a tutte le patologie no-covid lasciate indietro, ai pazienti cronici scompensati che arrivano al medico di base, quindi una sinergia tra il territorio medico di base, i distretti con l'ospedale. Il target è proprio quello, perché liste di attesa che sono lunghe, visite bloccate, e l'ASL 5 mi ha assicurato veramente un impegno su questo fronte per recuperare tutti gli esami di screening che sono stati lasciati indietro. Faccio un esempio le mammografie, che sono un esame di screening fondamentale, ma questo è solo un esempio. Si è parlato delle criticità del territorio, che sono quelle del personale, si sa. Farò portavoce anche in regione con un incontro insieme ad Alisa per affrontare questi problemi che i direttori di distretto mi hanno comunicato. Lei prima di essere un politico è un medico, un uomo di scienza. Tante istituzioni sanitarie anche della nostra regione, il dottor Bassetti, sono stati investiti dalla rabbia dei cittadini che sono schierati dalla parte del No Green Pass. Lei come giudica tutto questo? Come ha detto lei, sono prima di tutto un medico e mi baso sui dati della scienza. Noi abbiamo la letalità che in un anno nella nostra provincia, io parlo della nostra provincia, siamo passati dal 18% allo 0,1%. Ecco, solo questo la dice lunga sia sulla prevenzione vaccinale, perché ricordiamo il vaccino è prevenzione, sia sulla terapia che comunque ha fatto dei passi avanti. Quindi basti pensare che la Liguria è la prima regione in Italia in rapporto alla popolazione sull'uso di anticorpi monoclonali. Quindi, report della dottoressa Artioli, abbiamo evitato a Spezia ben 145 ricoveri ospedalieri grazie alla di terapie con anticorpi monoclonali e tra poco arriveranno anche quelli intramuscolo. Quindi, io voglio dire questo, questo clima non ha fatto bene, bisognava informare meglio dall'inizio, però io penso che i dati oggettivi, sono i numeri quelli che contano, parlino da sé.